ciao a tutti e benvenuti ad un altro nuovo episodio su seven days two dies quest'oggi siamo qui a cercare di capire se sti sbrighti che sentiamo ok si erano da fuori è indemoniato guardatevi come ha gli occhi rossi iniettati di sangue vuole la nostra morte assolutamente noi li facciamo sacro guata gli abbiamo dato il fuoco purificatore li facciamo anche sanguinare ok direi che noi qua resistemiamo la faccenda e nessuno ha visto niente non so perché attacchino in questo luogo forse perché qua sopra c'è la roba no la roba dovrebbe essere questa stanza qua vabbè che tra l'altro qui abbiamo fatto un danno qui abbiamo fatto un danno fatemi vedere subito ok il danno è meno grave del previsto ci basta fare così rifacciamo il falò anzi forse è stato meglio un lato cliccato tasto sbagliato no gli fps non li vogliamo vedere ok ci rimettiamo tutta sta roba facciamola di nuovo lì ok situazione ristabilita il danno non è stato fatto il problema è che mi sa che dobbiamo rompere anche quello dove c'è la cassa la cassa mi girerebbe già un po di più di zebedeal però a sto punto visto che è così fragile mi verrebbe ora vediamo ok no la casa di stoccaggio è brava regge ok questo era importante ristabilire qua sotto che se crolla qua sotto è un bel casino come avete visto ok qui sono scagliati contro nostra povera porta cosa ci hanno fatto non si sa ma non ci incischiamo allora facciamo il banco da lavoro che dovremmo poter fare lo tracciamo cosa ci serve lingotti questi scotch e chiodi che da qualche parte ce l'abbiamo eccoli qua ce lo creiamo adesso poi vediamo un attimo dove piazzarlo semmai qui facciamo tutte ste cose ok torre lo lasciamo qua le bende quasi quasi ce le portiamo dietro che male non fa così se stiamo per morire malissimo facciamo questo lo mettiamo mentalmente lì e i tubi adesso vediamo dove posarli qui che ce n'era anche altri punto lo smantelliamo il bancone tra cinque minuti è pronto e noi adesso che lo andiamo a fare andiamo in giro a depredare cose andiamo in giro a depredare cose qui le cassette ce le potremo anche portare martelletto lo ripariamo dopo che c'è tutta quella roba lì qua cappello di paglia a per i simi quindi quando andiamo a coltivare ci possiamo mettere il cappellino questo non è male non è male ma tra una palla e l'altra abbiamo fatto venire giorno andiamo andiamo a ritirare la mission cina così ne facciamo ancora una che dovremmo riuscire a farla da luna rossa scatta alle 10 di sera dovremmo riuscire a fare in tempo a fare ancora una mission cina prima che sia troppo tardi male che vada ci creiamo ancora un bel po di spuntoni che così ce li abbiamo lui ci dà eh i tubibomba potrebbero servirci però preferisco le riviste sinceramente le riviste le preferisco sempre provviste sepolte recupera eliminazione recupera eliminazione noi facciamo recupera eliminazione questa è la più veloce ma intanto abbiamo sete tiriamo la coda al prete potremmo comprarci il soffietto avanzato da mettere a fare se no vediamo qualche libro non è ancora tutti fuori portato fuori budget allora ci mettiamo nostra cosa ci leggiamo nostri libri mazza da baseball qualità 5 ottimo ok il jeju è incazzato questo non era per niente previsto allora facciamo così facciamo il giro andiamo nella valle facciamo il giro da dietro mazza ce n'è una anche qua facciamo corri 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 gira corri porco schifo si sono arrabbiati corri gira prendiamo un po' di tempo facciamo così vediamo la barrette dovrebbero venire qua ok ok stanno arrivando sono i jeju quelle lì state molto attenti che picchiano come dei fabbri non fatevi ingannare questi qui sono resistenti ai coriacci come non soccorre ok facciamo lì sanguinamento niente non vuol cadere cadi brucia e chiedi perdono infedele questi tra l'altro picchiano come e mastri ferrai dove sono usciti tutti sti jeju ok questo forse l'abbiamo sistemato no brucia ok questo è sistemato 750 questo no e qua come sono incavolati sti jeju ma da dove sono usciti ok anche il secondo è andato di proviamo a far fuori l'ultimo è arrivato tutto lo squadrone meno male che eravamo dal trader vicino a casa ci arrivavano mentre eravamo in giro questi qui ci sdrumavano malissimo niente ancora ma ce n'è ancora uno ma come ha fatto cioè eravamo qua niente facciamoci così vediamo allontaniamoci ammazzata brucia chiedi perdono jeju infedele ok 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 qui poi dobbiamo assolutamente risistemare tutto prima della luna rossa lo facciamo dopo in un secondo tempo adesso andiamo via qui riposizioniamo la nostra scala noi ormai abbiamo la tattica la scala di sicurezza lì la buttiamo giù scusate se sono scappato ma sono arrivati i 27 g ai giù tutti assieme mi sono caccato un attimo addosso formiamo il blocco poi ci mettiamo anche blocchi di costruzione ce ne facciamo un po' allora la missione l'abbiamo presa già che siamo arrivati a casa posizioniamo anche il tavolo dove lo mettiamo dove lo mettiamo? lo mettiamo qua se ci sta questo è un po' grosso vediamo se ci sta lì non ci sta sta qua siamo un po' vicini non vorrei che si beccasse le sputacchiate vabbè dai lo mettiamo qua ok così qui possiamo fare le armi più potenti tra l'altro la doppietta di livello 5 la possiamo fare potremo farcela per la luna rossa che l'altro sinceramente fa un po' caccare questa punta da qua la passeremo alla costruzione più che altro ah però ci mancano le parti per il fucile no niente come ne ho detto non lo possiamo fare vabbè ritorniamo a noi qui il bancone l'abbiamo creato bello bello volendo lo possiamo anche prendere quindi top ci mettiamo la nostra chiave inglese qua usiamo tutto questo ah vabbè per fare le 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 cose lasciamola qua la teniamo per la luna rossa e via la bici dove l'abbiamo lasciata ok la bici l'abbiamo lasciata la prendiamo la bici e andiamo a fare la missioncina e e e boh quello lo ripariamo che se serve a posto si sono le sei dovremmo starci come te recupera però dobbiamo ripulire anche l'aria quindi dobbiamo ammazzare pure tutti ma si dovremmo starci come te intanto adesso abbiamo la nostra super biciclettina super performante arriviamo al punto x senza troppi problemi e va che vai bene qui c'è un altro distributore che dopo se abbiamo tempo lo smantelliamo per bene ok questa è la zona ah di fronte di fronte alla nostra vecchia missione questo lo lootiamo ok e adesso attiviamo la missione e poi facciamo il totem ok attiviamo la missione qui ci facciamo il totem occo lo mettiamo lì vicino così se serve ce l'abbiamo spuntoni in che non arrivasse troppa gente sul lato c'è la pia la bicicletta e dai proviamo ci mangiamo magari anche un po' di cibo e così ci abbiamo un po' più di vigore e vita extra e si parla mi sento ok strike 1 strike 2 qua mancato ok questo l'abbiamo fatto fuori vediamo proviamo che non arrivi nessuno da dietro ok polizia eseguita perfettamente qui parche la credenza la credenza la deprediamo come si deve uh vergadoro ci piace ci piace per fare la cosa lì vedo una luce verde non vorrei che sia roba strana qui si sono già spazzolati tutto tutta polimeri ok qua abbiamo avuto i riflessi buoni siamo riusciti a sistemarlo senza che ci colpisse questo qui che di solito è iperreattivo e iperveloce a sto giro siamo stati più bravi di lui una volta tanto smantelliamo prendiamo dobbiamo ripulire bella madonna qui ci teniamo pronti a scappare via di corsa guardate quanti sono questi anche facciano il buchino qui li prazzoliamo così ok ok uno sistemato ma l'altro secondo me è ancora vivo esatto lui proprio lui no lì ci voleva prendere simpatico ok lì ci sono gli spuntoni magari cerchiamo di ricordarcene se dobbiamo fare qualche fuga roccambolesca o cos'altro altro libro la lancia di livello 3 che però mi sa che smantellerò perché non la utilizzo nella lancia non mi ci trovo per niente qui 9 lingotti ottimi via via se mi di yucca mi dispiace via questi dobbiamo essere agili e performanti ok qua sotto abbiamo trovato la borsetta però dobbiamo comunque ucciderli tutti siamo distanti da casa se è uno solo proviamo a tirargli due mazzate così ok ne arriva un altro no sono in due sono in due facciamo un nostro gioco con la porta che ormai ci piace e quindi non c'è niente ok non c'è niente erano in 3 non erano in 2 ok 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 adesso dovrebbero arrivare ragazzi e ragazze ok si si arrivano andate lì come bruciano e chiedono perdono anche loro qui più che altro perché sono belli resistenti ok una è andata e è andata anche l'altra ok allora questa ce la beviamo che tanto un po d'acqua non ci fa mai male ma da più non possiamo anche provarci e qua sopra dove sono questo prendiamo dopo ha proprio sul tetto della serie devi morire ma ma io c'ho paura lì allora la bici di sotto e di qua la bici è la ok nel caso ci buttiamo giù di qua oppure ci mettiamo direttamente gli spuntoni abbiamo sistemato anche lui ce n'è uno lì dietro che a sto punto sistemiamo così ed è fatta completata senza nemmeno fare troppi danni complimenti ce l'abbiamo fatto buono ci prendiamo il legno che fa mai male ce lo beviamo questo lo smantelliamo ci prendiamo tutto il bottino già che ce lo siamo meritato ce lo siamo anche sudato oserei dire e niente torniamo a casuccia prendiamo un'altra missioncina che faremo non sa vediamo un attimo quanto è distante vediamo quanto è distante poi dietro non c'è nulla no di qui non dovremo morire ok sono morti tutte e due sì abbiamo fatto un coming coming out lì come cacchio si dice abbiamo spedito nella ionosfera insomma torniamo a casa di corsa siamo a più 16 io però gli lingotti che sono quali voglio facciamo così ok siamo abbastanza vicini da correre prendiamo su lingottini qua e ce ne andiamo e questi qui sono buoni buoni così nel caso possiamo fare i pezzi di acciaio che ci servono appunto per difenderci dalla luna rossa che ormai in come vedete il numerino rosso ci avverte che stanotte alle 10 scoccherà la prossima luna rossa la prossima luna insanguinata come l'abbiamo ribattezzata e niente direi che noi adesso andiamo a posare un po' di roba a casa perché siamo carichi di nuovo come degli ascari e non vogliamo finire e non vogliamo finire male quindi andiamo questo qui lo leggiamo sicuramente andiamo a posare tutta sta roba qua ok adesso andiamo a riscattare al volo il premio con la nostra bici spumeggiante prendiamo una missione e poi direi che ci vediamo domani ci vediamo domani non so ancora se ci sarà la luna rossa o no lo scopriremo presto tanto qui stiamo continuando a sopravvivere di rifo o di raffo guarda guarda ecco andiamo non spendere tutto in un posto ho la colla però 100 munizioni sono 100 munizioni dai non si buttano via qua potremmo fare una provvista no andiamo a fare un recupero tra l'altro mi sembra anche un bel posto ma lo vediamo nel prossimo episodio come sempre vi invito a supportare la serie se vi sta piacendo e lasciare un bel mi piace per incoraggiare gina selvaggina a fare sempre meglio da gina selvaggina come detto è tutto e alla prossima ciao belli dov'è arrivo potremmo car se